Terzo posto, 101 Michela Molla, alla sua sinistra Michela di là, Michela da un po' è alto. Seconda classificata, numero 11 Giovanna Ruggeri, e quale migliore a Art vince Lorena Perruzzi? Migliore, atleta, femminile, ARG. Ora ragazze, scendete dal podio, un minuto in post-down, ragazze scendete dal podio, voi tre. Statueto del maestro di summa e medaglia d'argento della Jenson, la prima classificata. Un minuto di post-down per i fotografi, prego. Can anybody say you are alive? Love is called baby party. A little belly just canlify. Bene, allora le ragazze si possono accomodare Le ringraziamo Grazie